alla viewfest 2011 può capitare di incontrare anche personaggi particolari come costruttori di creature e pupazzi come erminio pinque del big naso lab ma siamo sicuri che sia proprio lui oggi mi chiamo faccia verde numero uno il big naso lab è un gruppo teatricale che facciamo e spettacoli sulle strade anche al palco scenico in tutto il mondo usamo un combinazione di musica maschere pupazze la voce improvvisazione come la comedia d'arte però anche come uno big horror movie di monsters scopriamo che faccia verde parla anche italiano come mai ai miei genitori sono nato in italia in sul mondo in abruzzi io sono nato negli stati uniti a new york però ancora ricordo un po di italiano e oggi voglio parlare un po per praticare e il gruppo big naso ha cominciato nelle strade di italia tanti anni fa giravo da solo facevo i spettacoli sulla strada con un solo pupazzo grande sopra la testa sopra il corpo e quando ho incontrato la gente dopo la camminata la sera mi hanno detto e naso grande naso nasone chi sei e con questa parola con questo nome ho cominciato la mia compagnia a fare un teatro che è una celebrazione delle cose che tanta gente sono un po che ha una paura un naso molto grande mi fa ridere non è una cosa che deve vergogna so allora il gruppo big naso che si significa questo orgoglio con il naso e con tutto il corpo e tutto il mento il spirito so ho cominciato in italia dopo quando ho ritornato negli stati uniti ho cominciato a lavorare in new york e boston e providence e allora sono qui ritornato dopo 20 anni erminio pinque o faccia verde insegna creature creation cioè creazione di creatura la road island school of design negli stati uniti qual è la lezione più importante che cerca di trasmettere e insegnare ai suoi studenti i miei studenti sono una generazione che capiscono molto gli special effetti digitale le cose moderne e la mia classe è la cosa più importante che deve cominciare con qualcosa vero di qualcosa che puoi mettere sul corpo per comprendere un po di più come si può animare come si può muovere nel costume io penso che si può fare con la maschera e con pupazze dopo diventare più forte a fare direzione regista di animazione